Amici della Serie A, team dopo la vittoria e rimonta all'esordio, la nuova Juventus si mostra ai suoi tifosi all'Allianz Stadium, test impegnativo con la Lazio che nella scorsa stagione qui fece il colpaccio. Fischi e Irrati, siamo dentro, Juventus-Lazio. Pjanic va da Chiedira, ancora Pjanic con l'esterno, sbaglia però immobile, può andare l'attaccante della Lazio, palla per Lulic! Lulic sul fondo con brivido, ha visto una deviazione in Irrati, calcio d'angolo, pericoloso Lulic, e sì, la tocca Stjessny! Bonucci, imposta lui in area, Matuidi, accomoda per Ronaldo, anticipato, palla buona per Chiedira! Palla sul palo, Juventus vicinissima, al gol dell'1-0 ancora con Sami Chiedira. Bernardeschi, passa, va in mezzo a due, Bernardeschi! Stracoscia, riesce ad allungare in angolo la risposta della Juventus all'occasione di Lulic. Prima con il palo di Sami Chiedira, calcia a botta sicura, qui sfortunato il centrocampista. Poi la chance con il sinistro a giro di Bernardeschi. Spazio Ronaldo, Bernardeschi. C'è là sul sinistro, pensa alla cross, cercato Mandjukic, mette fuori Wallace. Pjanic, colcio! Un super gol di Miralem Pjanic per l'1-0 della Juventus. Destro bellissimo di Pjanic. Ha avuto poco tempo per preparare l'esecuzione perfetta. Quella di Pjanic. Non dà scampo a Stracoscia e un golasso, quello del 5 della Juventus. Non riesce ad arrivarci. Stracoscia, ma come si è coordinato Pjanic? Davvero un gran gol. Tutto pronto, si riparte. Siamo dentro il secondo tempo di Juventus-Lazio. Pjanic ricomincia da Chiellini. Alta palla, il difessore della Juventus. Intercetta però Lucas Leiva. Prova a verticalizzare con la seconda chance da Lazio Milinkovic. Va da Luis Alberto a giro! E questa volta spaventa Stiesny. Ad un passo dall'1-1. Luis Alberto. Destro curvato benissimo dallo spagnolo. Douglas Costa. Cerca la sterzata. Trova Ronaldo. Si gira e calcia Ronaldo! Ci arriva con la punta delle dita Stracoscia. Evita il primo gol in serie a team di CR7. Con una magia. Calciato a spiovere. Grandissima parata di Stracoscia. Sulla campione portoghese. Controllo e destro a spiovere di Ronaldo. Douglas Costa. Si muove Cancelo. Servito e vuole il controllo. Cancelo mette in mezzo per Ronaldo. Stracoscia poi Mandjukic! Mario Mandjukic! Per il 2-0 della Juventus! Il gol della tranquillità. Non riesce a segnare sotto porta CR7 che comunque sorride e abbraccia il suo compagno autore del gol del 2-0. Qui il cross di Cancelo. Stracoscia manda fuori tempo a Ronaldo. Diventa un assist per Mario Mandjukic! E 2-0! Rischia i Rati. La Juventus viaggia a pieno ritmo. Battuta la Lazio. 2-0! La Juventus viaggia a pieno!